Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in una nuova puntata di The Banding of Isaac Afterbirth Plus Io sono Ser e benvenuti sul mio canale Proviamo come sempre a fare una daily in cui moriremo istantaneamente Perché ultimamente le daily servono solo per aprire il video Così, dice io inizio con la daily e poi faccio una magra fine Dobbiamo andare, darkroom, cos'è quella? Io tanto non ci azzecco, ma adesso io questo come cazzo lo ammazzo Non mi vedi? Tu invece mi vedi benissimo Ho sentito il rumore di una chiave Ok, dove andiamo? Non qua Che ci dai? Un saldino, un saldino Grazie, un saldino Comunque c'avevo ragione ieri, alla fine le mie lugubrazioni avevano colto nel segno Quella dannata attiva faceva schivare le lacrime come se fosse un desol Temporaneamente Che però pare che funzioni malissimo È tipo buggatissimo Per questo non sono riuscito A farla funzionare decentemente Avete rotto il cazzo con questi portali? Ci metto un anno e mezzo se continuiamo così a fare sto piano Maledetto desellar Maledetto Poi solo spawner Spawner che spawnano spawner Allora Uh, non t'avevo visto Rischiatissimo Ma che so ste stanze? Ma chi ne ha mai visto ste stanze? Ma che... Gioco Eh? Va bene Moriamo qui allora Tu esplodendo Ho sempre ammesso che ci arriviamo a farti esplodere Dovresti portarti dietro lo spawner E invece no Dimmi che è un... The Aerofant Sono un po' indeciso Però facciamo così Almeno possiamo far così E avere un boost Boost Di HP Di danno, scusate E in più abbiamo La fedele amica Dead bird Dead bird Brava Ma poi perché femminile? Bravo Dead bird No ma tranquillo Muori anche a questo piano Così random Senza Ora lascio Fare a te Stavo dicendo L'HP lo si prende Però A questo At this point of situation Sarebbe forse il caso Non va fatta sta roba Non va Mai Fatto Se c'è un cuore in giro Entrare in una stanza Per prendere danno random Allora abbiamo un po' di bombe Ma non abbiamo tinted E quindi Un cazzo È tutto Ma basta Prendere danno random Prosto Se sentite cani Passanti Ricchi premi E cotion È abbastanza normale Tutto deriva Aspetta Ci potrebbe essere Un cuore blu Che mi risolve la giornata E invece c'è Chaos Che me la fa Riccamente Prendere Inder pose Tre monete Adesso Andremo alla ricerca Di tre monete Credo di averla messa male Un attimo Mi fate farmi Mentre locale Un secondo Infatti L'avevo messa male Dai che sei Fichissimo Ma vai a caccare Niente Ci siamo fumati Tutte le opportunità Possibili del mondo E in più scendiamo Con un cuore Quindi moriremo Ciao Va bene Cellar Ciao cellar Mamma mia Le big schivate Calmi eh Aspetta che qua Si prospetta Una figata Non so se c'è altro Che posso Ravanare Bravore boh baby Bella merda Complimenti I have tried Come dicono Quelli studiati Io avrei sempre quella carta Niente mala Ah già che non posso Sbombezzare Da nessuna parte Adesso si Mi facciamo Sta roba Fatta bene Oh grazie del Ma va caccare Una volta che non mi serviva Malà Qual è la possibilità Oggettiva Di non prendere danno Dal boss Praticamente Nulla Quindi che cosa Farebbe uno studiato Cosa farebbe uno studiato Andrebbe lo shop Cercherebbe un corbro Però quel corbro Devo prendere prima Ecco Posto Nope Vattene via Top Una bomba Allora abbiamo un desam Io opterei per Usare la bomba qua Cercare di Massimizzare Maledetto Maledetto Quello che volevo fare Era questo Allora Lasciamo Desam qua Che la voglio E facciamo così E ci cucchiamo One key Così Perfetto Prossimo livello Si usa la chiave E tanti cari saluti Qui boss Rashash Se li scordiamo Tuttissimi Proprio Lo dico adesso Pin da solo Va bene Avere la possibilità Di patti Con l'angelo E col diavolo Fissi Interessano Interessano solo questi Quindi Danni cuori blu Non ci interessa più A sto punto Ne faremo una bella cosa Andiamo a donare Alla donation Se ne troviamo una Giusto? Giusto Oppure Stanza difficile Usiamo Il jamba combo Mamma mia Ci metterò un mese A fare stanze Salve Amica chiave Ah giusto Che è Wow Che è successo? Come ho fatto A schivarlo? Dicevamo Che Rainbow Baby Spara lacrime Randomiche Che è Not bad Very very Not very very Già giusto Eh Sì Lo farò Se non altro Per la possibilità Di trovare un oggetto E così È stato Tutta la bomba Ce l'hai ridata? O ce ne avevamo due? Vai Vai amico Friends Amico Bello che sparo Anche lacrime Rallentevoli Amico Sacchetto Hai fatto la tua Bravissimo Fortuna Non carica Subitissimo Perché No Forse è più facile Che fosse qua Eh Infatti Cosa Cosa essere tu Cosa essere tu Coupon Coupon Cazzo è cupono Venga Amico Venga Tutto molto interessante Come dice Rovazzi Ma non ho mica capito Che è successo No aspetta Questo mi interessa Ma basta Ah ho preso Dedonian Sedonian Uno dei Due Rende gratis Qualcosa Per carità Sto cercando di farlo interlocale Allora Se io prendo Se io prendo un oggetto Se io faccio così Ok Non era detto Che mi avrebbe Reso Quello disponibile Giusto Cioè se io faccio Ok Si è totalmente random Va bene Vai a cacare Dunque ho Rewal Wizard Ah già che c'è restocca Adesso Sono convintissimo Di sto oggetto Però beh E' la crema E' più lente D'Europa Ragazzi Sono le mie Ah mi sarebbe piaciuto Vederlo qua Che cosa facevo Grazie E lo vedrò Che cosa fa Vedrò se funziona Anche qua Si funziona anche qua E' male B-dryer rimane Si si no Che cos'è questo Ma preferisco Dermit Perché potendo Ave gli oggetti Gratis E ciclici Intanto facciamo così Allora Questi due Li voglio entrambi Onesto Molto onesto Adesso In teoria però Escono doppie Esatto Anche i ragni Escono No scherzo Ok Mo' ci abbiamo La jumbo combo Forse si Forse no Non lo so Posso diventare Un picco Gli oggetti Forse no Ok Sacchetti A strafottere The word The word Almeno ci dice Dove Che cosa Onesto Ok Quando è Non funziona Perfetto A sto punto No Non lo usiamo Ancora Ce l'ho rallentato E ci sono andato Sopra Ragazzi Sono il nuovo Messia Dei danni casuali In contrastato Direi Oltretutto Ok Il boss Oltretutto Era là Perfetto C'ho anche Pack Lì Fanny Pack Dicomi Cazzo La roba Si chiama Perfetto Non lo so Devo ragionarci Un secondo Però Ace of Diamonds E' utile qua Perché poi Vado a dire Prendo Two of Diamonds E GG Si può fare Qua Farei così Le pustole Che belle Si Andiamo in questa stanza Mantiriaco Sucked Dovrebbe Spumare Sacchetti Invece Che monete Head of The Keeper Merda No Fermi un attimo Set of Diamonds Set of Spit Che usiamo subito Perfetto Via Merda Santa Santissima Merda Grazie Va bene Sto qua Buono Un botto De cuori Dammi 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 Ok Tu sei Gratis Ci comincia A piacere Sta roba Allora Vediamo subito Se qua c'è qualcosa Ciao amico Ciao amico Ho preso danno? O sono così furbo Di averlo riusciato Non lo so Basta con Sto ice of diamond Quando ci hai scassato Le wallara Nope Decocio proprio Allora Possiamo vedere Qua Se c'è qualcosa Ero quasi convinto Di aver sentito Mio figlio E invece no Ho le visioni Mamma Ho le visioni O the chariot La userò in questa stanza Credo che sia veramente il caso Usarlo in questa stanza Comincio a preoccuparmi la cosa Quante mani Non in questa stanza Volevo usarlo Esatto Mappar Però Magician Ma chissà dove sono Le stanze interessanti Bisogna ricordarsi Di non prendere mai Saked In una daily Perché ti fa perdere Tempo A guardare Le robe Di non capire Dove sia Dove siano le cose Ma fa niente Peccato che lo shop Non dia niente Di danno Senti Ti vuoi prendere Un po' di miei cuori Beh Sinto E niente Là è là sopra Per forza Fa tutto sto giro E poi era là Va bene Siamo d'accordo Esatto Tutto qua Come si voleva Voleva si dimostrare Lo facciamo Lo facciamo Lo vengo C'è un'altra Traiera E per a posto Le moon The devil Boh Robbe Allora Questo lo prendiamo Così lo leviamo Questo lo prendiamo Così lo leviamo Questo ce lo prendiamo E lo usiamo Ce li leviamo tutti Ok Questo così sappiamo Dove siamo Un po' di danno Un po' di danno Che ci ho dato gratis Le bombe In HP Almeno Se muoio Muoio perché sono coglione Io Ma almeno ci siamo messi in condizione Di essere abbastanza Fortini Peccato Vorrei riuscire a finirla Sta run Non voglio fare Robbe strane Non voglio fare Ponteggi No Voglio finirla Semplicemente Che cos'è che è esploso Esattamente Ah sì Blue babies Quello là Test the page Ho preso Veramente Ok Probabile che sia lassù Però Chi c'è cura presso Nessuno Stiamo facendo una run Da 810 minuti Che dovrò dividere in due parti Quindi Qui si piglia tutto Peccato Peccato un po' Ci avrei contato Che tu mi dessi Questa è la base Questa è la base Che tu mi dessi Che stavo dicendo Che tu mi dessi Steam sales Ok Ci sono le bombe lì Ricordiamocelo Facciamo più La merda Corri 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 Ok Ok Justice va benissimo Penso lo prendesse la bomba Quante? Mi hai colpito Piccolo figlio di Madre ignota Perfetto Useremo Useremo Ecco Battery è una cosa che volevo Cozzo Salve Ricominciamo Adesso mi dispiica Perché non ce l'ho Bene così Demper Me lo tengo Tanto è di qua Demper C'è L Sì Avete capito No? Sì stai bene lì Mamma Salve Cazzo Cazzo tuoi Ok Cuore Corri Preferisco Demper Devo dire la verità Quanta bella roba Madame Madame Adorea Allora Io potrei Prendere questo Prendere questo Prendere questo E poi fare così Meglio Meglio di Emperor Sì Allora Dovrebbe essere su Molto in teoria Salve Che fa Viene Perfetto Finalmente C'è quel più 6 di danno lì Che mi tenta Ok Almeno sappiamo che era lì E abbastanza Amen In più Non riuscire a Spingere Lo bottone Utile Maz Ok Credo che lo assorbirò Ma questo mi farà schizzare in giro per la stanza Ciao Mi farò schizzare in giro per la stanza Vabbè Ma scendiamo Andiamo che ci dici Molto interessante Emperor Star Che qua non c'è Chci Tornare Chia 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 Prendare basta abbiamo acquisito tutta la survivability che ci serviva credo il boss probabilmente è in fondo quindi è lì che lo cercheremo ma vaffanculo beh sono riuscito comunque a uscire con più cuori di quanti sì vabbè senti no questa anche no si va benissimo cazzo non è così male senti prendo un danno e sti cazzi esatto ok no siamo concordi no intanto ormai ah questa è quella doppia vedete che è tutta crepata quindi è già stata colpita una volta intanto vai vai fai il tuo e qua c'è la robessa del boss ok si prendi danno prendi tutto il danno di cui hai bisogno va bene via scappa scappa assolto come l'ho evitati chissà non lo sapremo mai quando si arriva ad Isaac con un danno più o meno decente trovo che sia uno dei combattimenti più banali ok se ben mi ricordo eh madonna ok ci deve dare un oggetto no non era questa che dava l'oggetto che giro da merda ragazzi ho già che no lo prendo solo per capire che succede beh niente di particolare in realtà no no ok confermato che non dà un cazzo perfetto però fa tanto danno no dai non c'ho tempo veramente anche per quello ho veramente usato una bomba quando ci facciamo domande blu baby ciao blu baby è stato bello no vabbè dai 35 minuti c'ho di peggio ho fatto chiaramente schifissimo cioè qui andava fatto tutto 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 però vabbè come tempo è trecentesimo cazzo sono andato veloce 35 minuti vabbè si chi ha fatto boss rush asce si sicuramente ci ha messo di più effettivamente perché sennò è diventato molto più dopo vabbè ragazzi io spero che il video vi sia piaciuto e ci vediamo alla prossima puntata ciao a tutti ti ti